Buon salve popolo digitale, come da titolo in questo video parleremo del logo NASA e di come funziona la gravità. Dunque senza perdere tempo prezioso, andiamo sul sito della NASA dove c'è ovviamente la pagina dedicata alle linee guida di utilizzo del loro logo. E possiamo leggere con quali nomi la NASA ha chiamato gli elementi con cui è composto il logo. Partiamo da The NASA Insignia Logo The Blue Metabol Insignia Ovvero è il logo attuale della NASA che chiama con polpetta. Poi c'è The retired NASA logotype, the red worm logo, and the NASA seal may not be used for any purpose without explicit permission. In questo caso parla della scritta NASA stile futuristico, ormai ritirata, che viene chiamata verme. E poi parla del logo simile a quello attuale che chiama sigillo. Quindi in conclusione il logo della NASA è un sigillo, ovvero un qualcosa che racchiude uno scopo obiettivo non reso pubblico e quindi segreto. Ma che ora scopriremo, grazie a vecchi documenti che la NASA stessa ha reso pubblico. Il secondo link che trovate in descrizione del video vi porta a un documento NASA del 1976 in cui erano riportate le prime linee guida di utilizzo del logo NASA. E qui leggiamo che, udite bene, la scritta NASA non può mai essere messa su una figura solida come ad esempio un cerchio. Ma il loro logo attuale va già contro questa prima linea guida. Poi poco più giù troviamo una prima versione del logo attuale, chiamato anch'esso il sigillo NASA. Con scritto che, la parola NASA non può mai essere messa su questo logo, perché i due elementi rappresentano due scopi differenti. E poi anche perché visivamente non ci stanno neanche bene. Ma questa è una controversa, dato che noi oggi sappiamo, perché lo vediamo, che la NASA ha infranto brutalmente le sue stesse linee guida, con il logo attuale, in quanto racchiude l'esatto opposto delle cose vietate e descritte nelle linee guida di utilizzo dei loghi. Ma non è chiaro cosa ha messo la NASA nelle condizioni di infrangere le sue linee guida, perché in quest'altro documento la NASA racconta una versione diversa dell'origine del logo. Come ad esempio che il logo simile a quello attuale era stato ideato nel 1959, poi modificato fino alla versione finale del 2006. Tuttavia continuano a chiamarlo sigillo, con cielo blu, verme rosso e la V rossa che dovrebbe essere il muso di un cobra, o anche il volo di membri della NACA, ovvero l'entità originaria dell'attuale moderna NASA. Quindi non si capisce che cos'è la NASA, probabilmente non lo sanno nemmeno loro. Forse perché prima era un ente normale di aviazione, e poi è diventata anche un ente aerospaziale. Fino a fondere le due cose in una. Infatti come ho intuito, e così come è riportato anche su un'altra pagina del sito NASA, c'è scritto che il logo moderna attuale racchiude il vettore degli avviatori, e l'orbita circolare rappresenta i voli spaziali. E infine che questo logo è stato designato nel 1975, ovvero tre anni dopo lo scatto della Blumerbo. Ed è qui che tornano i conti, e si deduce che, come avevo intuito in un altro video, grazie all'inaspettato successo della Blumerbo, la NASA ha notato che la popolazione mondiale era così presa da vedere la foto della terra tonda, che decise di farci un logo per rappresentarla. Creando quindi un ulteriore sigillo, che rappresenta un nuovo programma. Un programma di propaganda fraudolento, di merce come ad esempio il programma ISS. Ed una prova del fatto che la Stazione Spaziale Internazionale possa non essere una reale stazione orbitante, è questa foto di una galleria del vento, in cui secondo me, in strutture come questa, possono aver girato moltissimi video della ISS. Anche secondo voi? Ma in ogni caso, al di là di quale sia il vero scoppio origine, il logo della NASA è un sigillo. Questo è ciò che importa per ora. Ma c'è anche da evidenziare il fatto che all'inizio la NASA era un ente benigno, poi qualcosa l'ha trasformato in una società malefica. Ma succede sempre così ovunque, si parte con le buone intenzioni, e poi il successo dà la testa. Ora passiamo alla gravità. Prima però, vi devo dimostrare che qualcosa esiste. Come avete visto, anche in mancanza di aria, qualcosa ha fatto in modo che sia la piume ed il magnete, siano caduti al suolo, ed anche nello stesso momento. Dunque, la gravità esiste principalmente grazie alla massa atomica, che nel momento in cui esiste un punto di attrazione, ogni singola particella della materia cercherà di raggiungere il centro di questa forza attrattiva, che in base alla massa atomica, ovvero da quanto è pesante ogni singolo atomo di un oggetto, si osserva chi cade ed arriva per primo al suolo. Ad esempio, una particella di acqua ha una massa atomica più pesante di quella dell'olio, per questo l'olio si posiziona sempre sopra il livello dell'acqua. Ma fisicamente succede che per via della forza attrattiva, ogni particella cerca di raggiungere la sorgente, e quindi scava continuamente finché non raggiunge il fondo. E nel momento in cui tante particelle in massa fanno questa operazione, mentre scavano, spingono le particelle dell'olio in alto. Quindi facendo anche il paragone tra elio ed aria, l'elio non sale perché è più leggero, ma sale perché è l'aria che lo spinge verso l'alto, mentre questa cerca di raggiungere il basso, ovvero il punto di origine della forza attrattiva, chiamata gravità. Uguale paragone è quando immergiamo qualcosa in acqua, e vediamo che il suo livello sale. Ed ecco perché nonostante c'è la gravità, ci sono cose che salgono e cose che scendono. Ma nonostante questo, in alcuni casi, è possibile osservare anche una goccia d'acqua, che anziché scendere sul fondo, stazioni su un grande strato di olio. Così come galleggiano le imbarcazioni. Ed è in questo caso che si parla di densità e altri fattori fisici. Infine, la gravità è forte, a un punto tale da permettere comunque di fare cose come ad esempio volare, saltare o magari surfare sull'acqua. Infatti, secondo il principio di un surfista, se prendete una tavola da surf e ci salite sopra, mentre siete fermi, ovviamente affonderete, ma se si acquisisce un certo movimento e velocità, quando ci salirete su non affonderete e quindi riuscirete a cavalcare le onde. Lo stesso vale per gli aerei. Volano perché con questa legge sfruttano la possibilità di surfare nell'aria. Ed ecco anche il perché gli aerei non riescono ad andare oltre una certa altezza. Perché l'aria diventa più rarefatta e quindi non c'è più nulla su cui, tra virgolette, surfare. Tuttavia, più potente è il propulsore e più in alto si potrà arrivare. Ecco come, teoricamente, fa miraggi aereo-spaziali a raggiungere lo spazio. Inoltre, la gravità non c'entra. Infatti, più in alto si va e minore è la sua forza. Ed è per questo motivo che io non credo nell'esistenza di un universo con pianeti che ruotano attorno al sole e che a sua volta gira attorno alla galassia e così via. E a tal proposito, nel prossimo video vi mostrerò il modello di terra e universo in cui credo. Di conseguenza, anche come viene generata la gravità e infine qualcosa che ha a che fare con l'acqua e la computer grafica. Ciao e al prossimo video.